12 ore suddivise in 5 incontri teorici, ciascuno di 2 ore, che si terranno alla Casa dell'Energia e due incontri pratici, entrambi di un'ora, nei campi prova individuati dagli istruttori. Si articola così il calendario del corso di formazione rivolto ai proprietari di cani dopo i tristi fatti di cronaca che hanno visto l'azzannamento da parte di cani morsicatori ai danni di razze più piccole. In un caso c'è scappata anche la tragedia. A tenere le lezioni un istruttore cinofilo di EMPA e delle guardie zoofile, un educatore cinofilo di OIPA. Il corso fortemente voluto dall'assessore Giovanna Carlettini che ha avuto il via libero dalla giunta è gratuito e spiega la stessa Carlettini lo abbiamo organizzato per responsabilizzare proprietari di cani ed evitare tragedie. Il corso è gratuito ed è rivolto ad un massimo di 20 persone per iscrizioni rivolgersi a EMPA.